Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Ma cosa sta succedendo a Filippo Bisciglia? In questa edizione autunnale l'amatissimo conduttore di Tentation Island sembrava un'altra persona. Negli ultimi fallo soprattutto, le uscite di Bisciglia hanno suscitato un'ondata di polemica a non dire, anche tra chi aveva sempre difeso e lodato il presentatore. Tutto è partito dal caso di Alfred e Anna, che avevano deciso di partecipare alla trasmissione perché lei dopo un tradimento non riusciva più a fidarsi totalmente del compagno. E come voleva si dimostrare, nel corso del programma Alfred si è avvicinato alla single Sofia, finendo anche per baciarla. Di qui il fallo di confronto finale in cui è scoppiato lo scontro tra i due ormai ex fidanzati e Bisciglia stranamente preso le difese del ragazzo. Io sono sicuro che ti vuole bene, ha detto Filippo ad Anna, tentando maldestramente di consolarla. E le parole che ha rivolto ad Alfred sono suonate ancora più scandalose. Quando due persone non si amano più non è colpa di nessuno e quando andrai a scusarti con i genitori di Anna vedrai che capiranno. Come se non bastasse nell'ultima puntata, Bisciglia si è ripetuto durante il fallo tra Mirko e Giulia. Come molti ricorderanno, la coppia aveva deciso di partecipare a Tentation per provare a dare un nuovo slancio alla propria relazione dopo nove anni insieme. Ma durante il programma Mirko si è avvicinato alla tentatrice Alessia e Giulia è legato con il single Bruno. E se alla fine Giulia aveva comunque deciso di perdonare il fidanzato, Mirko invece ha scelto di uscire da reality da solo. Ha confessato di aver provato emozioni per un'altra persona ed è scoppiato anche a piangere. E proprio in questo frangente Filippo Bisciglia lo ha consolato con un abbraccio affermando che non aveva colpe per aver smesso di amare Giulia. Dopo aver assistito al comportamento incomprensibile di Bisciglia, il popolo social si è dunque scatenato. A Filippo l'edizione invernale non fa bene, ha commentato un utente. E' un'altra appassionata del programma tuonato. Filippo ma che messaggi sbagliati stai facendo passare? Chi ti vuole bene non ti tratta così, punto. E ancora i messaggi al veneno si sono moltiplicati. Non è ancora chiaro se dietro alla metamorfosi di Filippo Bisciglia ci sia qualcosa di studiato a tavolino, magari proprio per creare hype sulle piattaforme social. Ma è certo che il pubblico di Tentation al momento non sembra aver gradito affatto la nuova versione del conduttore. E voi che ne pensate scrivetemelo giù nei commenti. Grazie. 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 Grazie a tutti.